buongiorno a tutti ben ritrovati per questo nuovissimo video oggi mi trovo sopra madesimo e l'obiettivo sarà raggiungere prima il lago Demet come vediamo qua dal cartello e poi vedrò di raggiungere il pizzo spadolazzo vediamo qua la partenza che siamo a 1600 metri sopra il livello del mare possiamo vedere è ancora freschino perché sono ancora all'ombra e sto aspettando che arrivi il sole a illuminare la valle vediamo che le cime sono già illuminate invece qua in valle ancora ancora scuro alla partenza mi dava 9 gradi sto per uscire nella zona d'ombra ecco qua qua finisce l'ombra e qui sopra inizia la parte illuminata finalmente ecco qua finalmente il sole vediamo che sbuca da dietro la montagna sono un sacco di piante di mirtilli possiamo vederle qua ed eccoli qua sopra i mirtilli ecco ne qua uno buono qua dietro alle mie spalle il refugio Bertacchi e invece qui dinanzi a me il lago Demet ci sono dei pescatori a bordo lago che credo che stiano pescando delle trote lascio qua alle mie spalle il lago Emet e adesso proseguo la volta del pizzo spadolazzo spadolazzo arrivo bovini e girini ecco di qua sono in mezzo alle rocce vediamo qua dietro di me la vetta qua sopra sono quasi arrivato in cima qua non c'è più il sentiero ma la traccia è segnato da questi segna via qua bianco rosso rosso e là c'è la croce quel cucutolo lì e la vetta sono arrivato in cresta alla montagna possiamo vedere i due versanti da questo lato e da quest'altro invece la valle espluga questi missimi passi ed eccomi qua arrivato in vetta ecco la croce del pizzo spadolazzo ecco la croce del pizzo spadolazzo ecco la croce del pizzo spadolazzo anche questa vetta è stata conquistata è andato tutto bene il video finisce qui ci vediamo nella prossima uscita ciao 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 ciao